Ehrman con l'aiuto del nastro, settimo punto per Monza, ancora Squarcini e Encock, vada Bracocevic, il suo attacco murato da Laura Ehrman. Bracocevic, il suo pallonetto spinto, tenuto da Monza, Meiners, a una mano salva Sansona dopo l'intervento del muro, Vasileva, il suo pallonetto, tenuto da Plummer, fast per Ehrman, settimo punto per Monza. Giulio, la fast per Laura Ehrman. Giulio, la fast per Laura Ehrman.